Si chiama Danny Englert ma si fa chiamare Possession e pensate che è un ragazzo di 24 anni di età il quale ha modificato per molti anni di tempo il suo corpo diventando veramente un altro essere non vuole infatti apparire come un essere umano ma vuole diciamo così tra virgolette diventare un diavolo in forma umana la gente infatti lo chiama addirittura diavolo però a lui non interessa minimamente continua infatti con piena autonomia e totale chiarezza e felicità a raggiungere il suo obiettivo diventare un diavolo in forma umana trasformandosi in una creatura più unica che rara che ha voluto chiamare Possession gli occhi sono neri, bulbi neri, la bocca ha la lingua bifurcuta, il corpo è dipinto da una marea di tatuaggi tuttini e latex oltre che abiti in rete è veramente un diavolo, un demonio in forma umana sembra che stia raggiungendo il suo obiettivo diventare come tale ha anche le corna finte che però sembrano avere e sono applicate al suo capo o meglio alla sua mente, al suo cervello e alla sua testa va bene? lui eppure non si scompone in mia mente anzi vuole continuare ad andare avanti e fare ancora di più beh, da vedere tutto, ciao a tutti